Si stima che in Italia vengano eseguiti circa 80.000 interventi di protesi del ginocchio all'anno, interventi che consistono nella sostituzione dell'articolazione naturale con componenti in metallo e materiali plastici, allo scopo di alleviare il dolore e migliorare la mobilità. La condizione patologica che più frequentemente porta a questo intervento è l'artrosi, cioè la progressiva perdita della cartilagine di rivestimento che determina la scomparsa dello spazio tra tibia, femore e rotula, la deformazione delle superfici articolari e lo sviluppo di irregolarità ossee, i cosiddetti osteofiti. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top prodotto dall'Ital Press Pietro Randelli dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. I fattori predisponenti sicuramente vedono l'età, ma anche il peso corporeo e il tipo di utilizzo che si fa dell'articolazione. Esistono poi artrosi cosiddette post-traumatiche che possono intervenire in pazienti che hanno avuto dei traumi, degli incidenti, anche semplici traumi sportivi che nel tempo portano a degenerazione articolare. Mettere una protesi, ossia un corpo inerte, qualcosa di differente dal solito, da quello che siamo abituati a portare, a utilizzare tutti i giorni nel ginocchio, è considerata una cosa estremamente cruenta. È proprio così in termini di recupero di traumatismo dell'intervento oppure no? Diciamo che negli ultimi anni stiamo lavorando tantissimo per fare in modo che l'intervento sia il meno invasivo possibile. Quindi la chirurgia si è affinata molto, rimane una grande chirurgia ed è così descritta perché andiamo a sostituire un'articolazione. Abbiamo protocolli anche anestesiologici per ridurre molto il dolore post-operatorio, soprattutto nei primi giorni, ma la cosa fantastica è che già dal giorno dopo il paziente può camminare caricando completamente sull'articolazione. Questo è stato il grande passo in avanti di questa chirurgia. Quindi è un grande passo in avanti, lo dite alla fin fine. Assolutamente. Il paziente oggi, se arriva con una buona forma fisica all'intervento e è un buon fisioterapista nel post-operatorio e noi ci assicuriamo che lo abbia, il giorno dopo già riprende un po' a vivere. Grazie a tutti.